Cosa la storia? L'Azio! 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 Prima di arrivare alla Lazio era vicino alla Roma. Nelle strade del 2016 era un passo dal Cardiff in Championship, ma la gestione di Berisha gli ha spalancato la possibilità di imporsi in bianco celeste. Ora Thomas Stracoscia è diventato uno dei portieri più affidabili della Serie A, e a dirlo sono i numeri. Come media voto è sotto solo Dandanovic, e guarda dall'alto in basso tutti gli altri, da Donnarumma ad Allison. Strana la storia di Stracoscia, da porterino a titolare indiscusso. Decisivo anche nell'ultimo turno di Coppa Italia con la parata su Chiesa, che ha permesso alla Lazio di staccare il passo per la semifinale. Quella sul numero 25 e viola è stata solo l'ultima di una lunga serie di parate che ha portato il portiere albanese a diventare una sicurezza assoluta. Eppure il suo arrivo a Roma era passato decisamente inosservato. Arrivato in bianco celeste dalla Grecia per una cifra vicina ai 75.000 euro, ci ha messo poco per farsi conoscere. Primo anno è subito scudetto con la primavera. Al secondo è stato il turno della Coppa Italia. Crescita repentina e senza entoppi, tanto da portare anche a De Biasi a convocarlo nella nazionale maggiore, con cui ha fatto il debutto proprio contro l'Italia di Buffon, il suo idolo da sempre. Anche se Thomas è cresciuto sulle orme di un'altra leggenda del suo paese. Di nome Fafotac, di cognome Stracoscia. Sì, proprio come Thomas, figlio di uno dei portieri più forti della storia dell'Albania. Di padre in figlio, sempre con la passione per i quanti da portiere. Thomas De Pali non si è mai spostato, ha iniziato da lì fin da piccolo ed ora è diventato uno dei migliori interpreti in Italia di quel ruolo. inclusività, riflessi e tanta voglia di lavorare. Sempre il primo ad arrivare agli allenamenti è l'ultimo ad andarsene. La natura l'ha dotato di un fisico all'altezza, la sua capabilità ha fatto il resto. Ce l'ha sempre messa tutta per arrivare in alto Thomas. Sotto la sapiente guida di Grigioni è cresciuto tanto ed ora ha raggiunto il suo obiettivo. Inzagli ha dato l'opportunità di mostrare il suo valore e non ha deluso le aspettative. Ragazzo di poche parole fuori dal campo, padrone dell'aria piccola nel rettangolo verde. Da 0 a 100 nel giro di pochi anni, ora Stracoscia è pronta a superare ancora i suoi limiti. Ragazzo di pochi anni, mani, mai, 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 mai!